Musica Un buon pomeriggio a voi da Radio Strunz e DJ Rocco e benvenuti nell'angolo di Professor Strunz Professore buonasera, buonasera a voi Allora professore, sembra che stia circolando un virus nuovo di difficile debellamento Chiamato Furby Virus, ma che roba è? Ma è Furby Virus, innanzitutto c'è da dire che a tutt'oggi ha colpito tutti quei dipendenti Ma non tutti che vanno al lavoro con un peso in più Una forma di attanagliamento di palle E rischiano di contagiare altri dipendenti e persone vicine Ui professore, ma è stata creata una medicina? Ma a tutt'oggi non si conosce cura Per tutt'oggi esiste una sorta di terapia efficace E in cosa consiste professore? E' vero, è una terapia ad urto ma di soluzione sicura Taglio netto delle palle Sì professore, e alle donne? Alle donne taglio netto dello stipendio Bene professore, ma esistono precedenti o similari virus di questo tipo? Sì, negli ultimi anni si è divulgato in Italia e nel mondo Una virus similare chiamato fanvirus Ah, o virus dei fan? No, il virus dei fan nulloni Bene professore, la salutiamo e ci lascia con una sua massima? Sì certo, l'ho appena scritta ed è questa Se ho caldo, mi spoglio Se ho freddo, mi copro E se ho voglia, bevo il caffè Ciao professore, sempre grande E ciao, alla prossima Da Radio Strunz, un saluto da vostro Trocco DJ Ciao belli, ciao Ciao